Direttore Matteassi, un bel Pescara questa sera che ha subito poco, il giusto, ma ha prodotto tanto in fase offensiva e ha vinto meritatamente. Sì, sì, abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo subito poco, ma anche le altre partite avevamo subito poco. Siamo stati molto bravi a concretizzare, ci prendiamo questi tre punti e siamo molto molto felici. Anche con risultati favorevoli, no? Sì, però a parte quello conta assolutamente, però bisogna cercare di guardare a noi stessi, cercare di fare più punti possibili, come dico sempre. Alla fine se poi non vinci è inutile guardare gli altri, insomma. Oggi abbiamo ottenuto tre punti e siamo contenti. Con Lentella è stata una buona partita anche dal punto di vista offensivo e mancate il gol. Non è stata una buona partita dal punto di vista offensivo contro la Fermana, però si era concesso praticamente poco, come questa sera. Con i tre centrocampisti, dopo la sfuriata di Reggio Emilia, è cambiato il Pescara? Nel senso che non subisce più come prima? Ma non è la sfuriata. C'è stata, dai. No, abbiamo cambiato modulo e penso che sia sotto gli occhi di tutti che stiamo subendo meno e oggi siamo stati bravi perché siamo riusciti a concretizzare alcune azioni che abbiamo creato. A Fermo, magari loro giocavano un po' di più a calcio. La Fermana cercava di chiudersi e lanciare in avanti la palla e basta. Invece loro hanno cercato anche di ripartire giocando e noi siamo stati bravi a far gol. Ecco, proprio in quest'ottica, in ottica nuovo modulo, devo chiedere a Matteassi Massimo le condizioni di Memusciai, le condizioni di Diambo e anche quelle di Pontisso, perché abbiamo visto che è uscito toccandosi l'adduttore. È chiaro che c'è Pescara a cinque centrocampisti, due erano in campo ad Elisio e Pompetti, tre virgolette sono infortunati. Questo non è positivo? No, non è positivo, però d'altra parte lo sapevamo, otto partite, otto partite mi sembra a febbraio abbiamo fatto, stiamo facendo, mi ricordo, però sette, tante. Giocando sempre gli stessi è normale che qua Cacciaco viene fuori, Pontisso e Veroli hanno sentito un indurimento. Ma di grave allora? No, sembra di no, poi è normale che devono essere valutati, invece Diambo in rifinitura ha avuto un problemino, che lo aveva già da fermo, se lo stava portando dietro, quindi non è stato convocato e Memu penso proprio che lui sicuramente non ci sarà a Modena. Ma quanto ci vorrà per Memusciai? Dipende, questa caviglia ha avuto un problema al legamento della caviglia, speriamo di ricoperarlo il prima possibile perché ci serve. Studio. Fabio Ferraresi per Luca Matteasi. No, io al direttore mi ricollego anche alla considerazione che ha fatto Enrico, credo che il Pescara con questo nuovo sistema di gioco abbia trovato più densità in mezzo al campo e soffra un pochino meno dietro, tu hai già confermato comunque quello che stiamo dicendo, quindi la strada secondo te sarà questa fino alla fine, si imposterà questo sistema di gioco per provare a fare un playoff da protagonisti? In questo momento penso proprio di sì, visto che come hai detto te c'è molto più equilibrio, stiamo subendo di meno, quindi non vedo perché cambiare. Ecco, io volevo fare una domanda a Luca perché giustamente come faceva rilevare Enrico c'erano i problemi al centro campo per via degli infortuni, però abbiamo visto, almeno dalla televisione, l'opzione Zappella, perché dopo l'uscita di Pontisso, Zappella se non vado errato ha andato a ricoprire più il ruolo di Mezzala e da quella posizione si è inserito e ha fatto gol. No, 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 hai perfettamente ragione, poi per le caratteristiche che ha Zappella lo può fare, soprattutto quando magari stai vincendo che devi ripartire perché Davide ha una grande gamba, una grande forza e quindi quando riparte ti fa male, poi c'è anche un calcio, calcia molto bene, quindi è un ruolo che lui può ricoprire sicuramente. A proposito Massimo, hai detto giustamente di Zappella, io voglio far notare ai nostri telespettatori che Zappella è partito come esterno a destra, poi con l'infortunio di Pontisso ha fatto la Mezzala, con l'infortunio di Veroli ha fatto l'esterno a sinistra e con la sostituzione di Clemenza ha fatto l'esterno offensivo a destra, quattro ruoli più un gol. Sì, è un giocatore che serve in tutte le rose perché è un giocatore che può fare più ruoli, è un giocatore che è sempre utile, è un giocatore che dà sempre la disponibilità a fare tutto, è un giocatore su cui ci puoi contare e quindi siamo molto contenti.